e ad aprile mi tocca ancora mettere pantaloni lunghi amici e amiche del tubo sono tornato quindi super buongiorno buongiorno da stresa e dal lago maggiore dopo un mese di assenza quindi torno a fare un nuovo video e oggi vi propongo quindi un super percorso con i fiocchi ricordatevi quindi di iscrivervi al canale e mettere un like andiamo a fare la ciclovia del torce ciclovia del torce che non parte da qui ma parte da fondo torce e arriva a domodossola quindi mi direte cosa ci fai qui? beh innanzitutto qui siamo alla stazione di stresa quindi chi vuole farla può arrivare in treno dalla Lombardia ma poi soprattutto perché da domodossola in 27 minuti si può tornare in treno qui beh allora siamo subito partiti fino a fondo torce sono circa 8-9 km ma non vi faccio fare il lago che è trafficato vi faccio fare tutte queste stradine panoramiche molto belle e passiamo poi dalla spiaggia di Ferriolo andiamo qua se avete gamba pedalate ma è veramente duro qui è dura ragazzi non pensavo così però deve essere un chilometro solo vi do un consiglio fate il lungolago non mi tocca pure tornare indietro perché ho dimenticato l'attacco della GoPro dai che ci divertiamo adesso ultimo sforzo mi sento un po' a un asino eh pensavo che si poteva salire da lì vabbè tutte cose belle che però vengono dopo quindi prima il dovere e poi il piacere vengono qui vengono qui a un po' a meno se ti vede questo ciclabile quindi non andate sulla strada si va in spiaggia guardate che bello questo ragazzi è uno dei miei posti preferiti sul lago Maggiore qui siamo arrivati a Ferriolo veramente grazioso questo burgo e siamo a tre chilometri dalla ciclovia un po' il dubbio se spiaggiavano ce l'ho a dire la verità mi piace troppo questo posto perché c'è questa spiaggetta in mezzo al paese tra l'altro vi racconto un aneddoto io questa ciclabile ho provato a farla anche quest'estate ma proprio qui a Ferriolo ho avuto un piccolo incidente praticamente col culo avevo il culo troppo pesante ho rotto il collarino della sella eccoci qui comincia la ciclovia del toce ciao la prima tappa di questo tour è sulla ciclovia del toce è il bellissimo lago di Mergozzo che adesso vi farò vedere è veramente un lago stupendo oh che bello qui il lacciato come vedete è bello filante qui e quindi si va purtroppo devo dire ragazzi che questa seconda parte non è molto segnalata anzi per un cazzo quindi facciamo attenzione al file GPX piccola interruzione no non preoccupatevi non c'è nessuna interferenza nel video sono io che vi devo spiegare a questo punto cosa mi è successo nel secondo inconveniente sulla ciclovia del toce era proprio nel punto più diciamo imboscato dove uno ha bisogno della traccia GPX e cosa è successo? si è fusa se non praticamente esplosa la povero bank con cui io carico telefono GoPro e luce quindi mi sono fermato sta un po' diventando una sfida con questa ciclovia me la sono segnata qui quindi continuate a guardare il video mettete like iscrivetevi e vediamo come va a finire stavolta quasi vergogna a dirlo guardate però che bello qui il lago di Mergozzo una volta passiamo a parte del lago Maggiore e la particolarità di questo laghetto è che è vietata la navigazione a motore quindi è tutto tranquillissimo e c'è questo paesino Mergozzo che è un piccolo gioiello quella sfiga mi perseguita a me sono anche un coglione ho bucato la gomma nuova per non vari sui nuovi e mi sono dimenticato a casa la camera driver di scorta adesso proviamo ho messo la toppa va beh nel frattempo sono all'armi sono anche in miniera adesso relax speck brie e salsa rosa il caffè è un piacere se non è buono che piacere cazzo oggi poi fa veramente frutto beh visto che siamo fermi vi faccio vedere questa cosa particolarissima poi questo vecchietto ha 500 anni mi emoziona sta cosa perché se ci pensate quante ne ha viste quante ne ha viste questo albero bene ragazzi quindi stiamo tornando a piedi qui c'è una stazioncina a 500 metri e la gomma l'ho riparata però devo fare 40 chilometri non mi fido molto quindi torno però la prossima volta continuo è proprio vero che dalle casualità possono nascere scoperte veramente interessanti però adesso è ora di andare a prendere il treno oh ma è bella pure la stazione a mercozzo sarà aperta eccesso solo per il personale c'è qualcuno? no eh viaggio non accustabile queste sono le cose proprio che mi fanno incazzabile i treni nord ecco se ce la faccio la contro in italia eccoce l'ho fatta con Satispay tac e voilà con un clic beh vi ho fatto vedere come si acquista un biglietto in 20 secondi molto pratico quindi evitate biglietterie e così fate tutto con l'app e fate prima sia che treni taglia che treno questo va direttamente a Milano Porta Garibaldi quindi se io venito da Milano in quella zona lì comodissimo e così siamo tornati al punto di partenza beh ragazzi il video finisce qui non è andato tutto secondo i piani prestabiliti però pazienza comunque mi riprometto che riprenderò il video da Mergozzo per concludere questa fantastica ciclovia del Toce quindi se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima